In due secondi con me amici miei guardate l'avvito che bella che è godetevi il video che segue perché è da sbaccanarsi ciao non so gabrie lo so gabrie lo so non so che ok devo fare questo qua non ha sonno eh tranquillo amore non è successo niente non dovevi schiacciare un bottone dovevi schiacciato e si è aperto tutto il serbatoio però adesso la capiamo sicuro ripuliamo tutto non preoccuparti la mamma non sarà contenta però mamma e adesso ripuliamo tutto non preoccuparti grazie